Un uomo che ha fatto della dolcezza il suo scopo nella vita. Il Salento piange Antonio Catamo, l'imprenditore salentino, il proprietario dello storico caffè al vino e le dolci fantasie, conosciuto da tutti per il suo impegno e la sua dedizione nel mondo della pasticceria e della ristorazione. Si è spento da sole poche ore, ma l'eco della triste notizia ha raggiunto già migliaia di persone che lo ricordano attraverso pensieri, messaggi e foto sui social. C'è chi lo definisce un'icona della leccesità, chi un punto di riferimento, chi un grande imprenditore e poi un galantuomo, un lavoratore instancabile e una bravissima persona, toccante e ricordo condiviso dalla sua famiglia su Facebook. Sei stato padre, maestro, amico, non siamo pronti a salutarti. Dirti addio strappa l'anima in due, eppure sappiamo qual è il nostro dovere. Conosciamo bene il modo in cui ci vorresti in questo momento, energici e desiderosi come sempre di stupire chi si abbandona all'assaggio della tua e nostra pasticceria. Ciao papà. Aveva solo 60 anni Antonio, un uomo che ha costruito un impero e ha regalato dei piccoli assaggi di dolcezza e momenti di felicità a chiunque entrasse a gustare i suoi prodotti. Grazie alle dolci fantasie, a San Cassiano, nel suo paese, ha mostrato a tutti di che pasta è fatto, ed è proprio il caso di dirlo. Tra i suoi meriti più grandi, quello di aver acquisito prima e rilanciato poi, al massimo, caffè al vino nel centro storico di Lecce. Un hotspot per turisti e gente del posto, un luogo dove sorseggiare un buon caffè e gustare un succulento pasticciotto vista a Piazza Santo Ronzo. Si è cimentato anche nel servizio catering, eccellendo magistralmente anche in questa attività, accompagnando ricorrenze e cerimonie con dedizione e tanto sapore. Telerama si stringe al dolore della sua famiglia, noi comunque lo ricorderemo così, sorridente e dolce come pochi.